Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala. Un mercoledì sereno con venti forti rafficati e temperature in calo seguiranno due giornate giovedì e venerdì con tempo stabile soleggiato e gelate al mattino nelle aree interne. Le nubi torneranno ad aumentare dalla serata di venerdì. Il dettaglio oggi mercoledì 5 febbraio correnti più fredde e asciutte settentrionali interessano la Liguria con cielo sereno per l'intera giornata e ventilazione sostenuta di tramontana. Venti appunto forti settentrionali ovunque con raffiche di burrasca forte lungo le coste fino a tempesta sui rilievi. Attenuazione dal tardo pomeriggio a partire dalle zone costiere. Mare localmente mosso o stirato sotto costa mosso o molto mosso a largo in calo dalla serata. Le temperature massime saranno in calo così come saranno in calo in generale i valori dalla serata lungo la costa. Le massime si attesteranno tra 15 e 18 gradi nelle zone interne tra 9 e 13 gradi. domani giovedì 6 febbraio rimonta dell'anticiclone delle azzorre sull'Europa occidentale dunque tempo stabile sulla Liguria. Sereno poco nuvoloso con velatura in transito nella prima parte della giornata. Venti deboli settentrionali ovunque fino a metà mattinata con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali a ponente e sui rilievi. Variabili altrove dalle ore centrali con locale regimi di brezza. Mare poco mosso. Temperature minime in diminuzione nei valori minimi appunto con diffuse gelate nelle aree interne al primo mattino. Lungo la costa saranno comprese tra 3 e 5 gradi nelle zone interne tra meno 4 e meno 2 gradi. Massime stazionarie lungo la costa intorno 15 e 16 gradi nelle zone interne tra 10 e 13 gradi. Dopodomani venerdì 7 febbraio lieve flessione del campo di pressione sull'Europa occidentale con deboli infiltrazioni umide sulla Liguria. Dunque cielo sereno poco nuvoloso ovunque ma con numi bassi in aumento nella seconda parte della giornata nelle zone interne. 20 deboli o localmente moderati meridionali sull'imperiese a Levante. Variabili a rotazione ciclonica altrove. Mare poco mosso in aumento a mosso a ponente. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 4 e 6 gradi nelle zone interne tra meno 3 e meno 1 grado. Massime stazionarie lungo la costa intorno 15 e 16 gradi nelle zone interne tra 11 e 13 gradi. È tutto. Seguite gli aggiornamenti sul sito arpal.gov.it, sulla pagina facebook di Arpal e sul profilo instagram dell'agenzia. A risentirci!